ciao a tutti oggi io il pigugno vi abbiamo portato a malgaces malgaces sotto praticamente ai piedi del colbricon si raggiunge agevolmente da san martino di castrozza tramite strada da qui partono numerosi sentieri il più famoso è quello che porta alla ghetti di colbricon poi vediamo anche la colbricon express che questa cabino via che porta fino a pian delle cartucce e qui sopra questo è tutto e vi saluto ciao ciao